Nella sede della regione a Pescare è stato presentato Abruzzo Plastic Free, l'accordo tra regioni Abruzzo e Lega Ambiente contro l'inquinamento da plastica. Anche in Abruzzo e nel mare Adriatico la biodiversità è in pericolo e la plastica fa la sua parte. Dunque oggi in conferenza stampa il dirigente del servizio rifiuti della regione, Franco Gerardini, e il presidente regionale di Lega Ambiente, Giuseppe Di Marco, hanno illustrato i contenuti del documento per cercare di ridurre il più possibile l'utilizzo della plastica nella nostra regione. È possibile un Abruzzo Plastic Free? Sicuramente sì, più che altro è necessario un Abruzzo libero dalla plastica. Questo anche in virtù del grande passo in avanti che abbiamo fatto nei termini della raccolta differenziata e del miglioramento anche delle attività che i comuni sul territorio hanno messo in campo. A questo si deve accompagnare la crescita della raccolta differenziata. Oggi parliamo di una regione che ha una raccolta differenziata al 62%, quindi bisogna entrare sempre in modo più forte sulla riduzione dei rifiuti. Il tema della plastica è fondamentale perché purtroppo anche in Abruzzo, dal nostro studio Biciliter, risulta che i rifiuti che sono a mare spiaggiati per l'89% sono appunto i costituiti dalla plastica. Si figuri un solo dato, si producono in Italia circa 11 miliardi e mezzo di bottiglie di plastica, quindi di PET, per le acque minerali. Sono 13,5 miliardi di litri di acqua minerale. Il Paese, l'Italia, è tra quelli che consumano più acqua minerale al mondo e abbiamo solo il 40% di questo materiale viene effettivamente poi portato al recupero e al riciclo. Quindi il protocollo serve soprattutto per sensibilizzare le popolazioni ad un uso congruo della plastica e nello stesso tempo per rafforzare tutte quelle azioni di recupero e riciclo della plastica al fine di non trovarla nei mari, lungo le strade e magari rafforzare così anche le percentuali di raccolta differenziata.